Allora oggi parliamo di mal di schiena. Il mal di schiena è una malattia estremamente frequente, spesso invalidante, che può colpire una vastissima gamma di pazienti. Spesso i pazienti con mal di schiena non riescono a interagire con il mondo che li circonda per ovvie ragioni di dolore e questa forma di invalidità a lungo andare crea sicuramente degli aspetti sociali psicologici abbastanza importanti. Il mal di schiena ha una patogenesi multifattoriale. Nel 90 per cento dei casi il mal di schiena è dovuto a bulging, protrusioni o ernie discali. È possibile attuare delle terapie risolutive, estremamente efficaci, con il minimo della invasività. Quello che propongo, che so fare, che ho fatto sia in ambito ospedaliero che in ambito privato, sono delle infiltrazioni. Infiltrazioni che però vengono guidate dalla TAC, che mi consente di essere precisissimo. La TAC è una macchina estremamente potente e performante, spesso e volentieri viene utilizzato per scopi diagnostici, ma grazie alla riduzione delle dosi e a degli schermi che ci consentono di visualizzare solo una piccola parte del corpo, in maniera tale da ridurre la dose radiante, riusciamo anche ad aggredire in maniera estremamente precisa, estremamente accurata, qualsiasi tipo di patologia. Nel caso specifico, è ovvio che il nostro target è la colonna vertebrale, in maniera particolare sicuramente il bulging, le protrusioni o le ernie discali. Grazie allo sito della TAC vengono posizionati degli aghi, sono aghi sottilissimi, aghi che si possono piegare con le dita, per quanto sono sottili. Questi aghi verranno posizionati esattamente in corrispondenza delle ernie, delle protrusioni, e verrà fatta la terapia. Che terapia facciamo? Facciamo terapia con ozono, che ha la capacità di disidratare il disco e farlo seccare, farlo ridurre, farlo ritrarre su se stesso. Contestualmente, l'ozono ha anche una capacità antinfiammatoria e analgesica diretta sul nervo, ottenendo quindi un risultato terapeutico sicuramente ottimale in confronto alla bassissima invasività dell'intervento stesso. È possibile, nel momento in cui esistono delle ricadute, ripetere con una massima o due infiltrazioni questo ciclo di terapia antalgica per ritornare a una situazione di normalità. La terapia è estremamente efficace, sicura e ripetibile e ci consente di trattare quasi il 90 per cento delle cause di mal di schiena. Noi siamo disponibili per fare una valutazione multidisciplinare su ambito radiologico, ortopedico, fisiatrico, fisioterapico, quindi sia clinico che di imaging, per riuscire a consigliare qual è la strategia terapeutica migliore per aggredire il vostro mal di schiena. Vi ringrazio.